Questo programma è offerto da Club Di Più. Sei single? Club Di Più è la tua opportunità di scelta. Grazie a tutti. A grande richiesta perché effettivamente a seguito del suo scorso intervento, un mese fa, circa molti di voi ci avete scritto, ci avete sollecitato a parlare ancora di questi temi cittadini che riguardano tantissime persone. Allora, forse proprio come cappello introduttivo per far maggior chiarezza, perché effettivamente come dicevo io per abituarsi alle novità ci vuole un po' di tempo, precisiamo quali sono i ruoli, cosa fa APS Holding adesso. E che ruolo ha con Bus Italia? Perché molti ovviamente mettono insieme, come vedono, un presidente di APS Holding, nell'immaginario collettivo scatta l'autobus. Anche questo abbiamo compreso. Dalle tante mail che sono arrivate e anche telefonate che abbiamo ricevuto da vedere spettatori. Quindi non è che le abbiamo trascurate e le problematiche che avete avanzato, in grande sintesi, le abbiamo già presentate al presidente. Ma adesso vi chiarirà il suo ruolo e anche cos'è la nuova APS, insomma. Possiamo definirla così. Buongiorno a tutti. Allora, il nostro ruolo in Bus Italia, noi siamo soci al 45% e sostanzialmente, essendo APS una partecipata al 100% del comune, diciamo che rappresentiamo il comune all'interno di Bus Italia Veneto, che è l'ente gestore. Ricordiamo che il comune è l'ente regolatore del trasporto, quindi dà gli indirizzi sulle linee, sulle eventuali implementazioni e modificazioni delle linee, sempre concordandole con il gestore Bus Italia. Che è Bus Italia, chiediamo? Bus Italia Veneto SPA. Naturalmente, l'eventuale implementazione è legata ad eventuali risorse da destinare a implementazione o a nuove linee. Circa tre settimane fa, alla luce di richieste dei cittadini, ho inviato al commissario straordinario una lettera, dove richiedevo una implementazione delle linee 5 e 18, anche la linea 11, un'implementazione perché andasse fino al carcere, perché il carcere non è attualmente servito da autobus, dal trasporto urbano, e anche una rimessa in servizio del cosiddetto pollicino, cioè l'autobus piccolo che partiva dal parcheggio dell'aeroporto e arrivava direttamente al Duomo, passando per via Soria e via Vescovado. Ora c'è il bus dell'Arte che fa un giro più largo e tocca poi anche il centro, ma con un giro per Prato e la Valle un po' più lungo. Quindi noi come APS, avendo il 45% di Bus Italia, siamo titolati, insomma, anche a dire qualcosa di importante, a dare delle indicazioni. Sicuramente non essendo più l'ente gestore non possiamo decidere in via autonoma eventuali implementazioni di linee. Certo, quindi non è che potete prendere autonomamente la decisione anche se sollecitati, potete però in qualche modo portare all'attenzione dell'ente gestore Bus Italia a quelle che sono le problematiche di vario tipo. Cosa peraltro fatta nell'assemblea che Bus Italia ha tenuto venerdì scorso, a cui ho partecipato, in rappresentanza di APS, assemblea che ha approvato il bilancio di Bus Italia, un bilancio peraltro inutile. Inutile, questo è importante comunque dirlo. Sì, è assolutamente importante perché io volevo chiarire un concetto da tecnico quale sono. Il concetto è questo, APS fino ad ora ha accumulato negli anni circa 18 milioni di euro di perdite. APS, essendo una partecipata al 100% del Comune, queste perdite vengono poi rappresentate nel bilancio del Comune, perché il Comune all'interno delle voci di bilancio è anche la voce partecipata e dove la partecipata in perdita devono essere destinate delle risorse del Comune per la copertura di queste perdite. Cosa era stato fatto concordemente con il Sindaco Bitonci? Cioè, l'iniziativa era quella che peraltro era già nella precedente amministrazione. Facciamo un conferimento, costituiamo questa società insieme a Bus Italia, Sita Nord, Bus Italia Veneto S.P.A. In questo modo APS si libera dal trasporto. Peraltro la Costituzione di Bus Italia e il conferimento ai nuovi trasporti era assolutamente indispensabile e obbligatorio, perché entro fine anno c'è la gara di bacino. Il bacino riguarda Padova e Provincia, Rovigo e Provincia, oltre 1 milione e 200 mila persone. Questa gara di bacino europea è una gara obbligatoria a cui APS da sola non avrebbe mai potuto partecipare, perché avremmo dovuto assumere oltre 500 autisti e comprare oltre 200 autobus in più per fare questa gestione, cose impossibili. Quindi, questa Costituzione Bus Italia Veneto, con una gestione economicamente meno difficile, perché Bus Italia Veneto è gestita con criteri privatistici. Ricordo un dato che avevo già detto la volta scorsa, il costo annuale del dipendente di Bus Italia Sita Nord, che era la società che fino a due anni fa gestiva il trasporto extraurbano e il trasporto a Rovigo, in comune e in provincia di Rovigo, oltre al trasporto extraurbano alla provincia di Padova, il costo medio era di circa 39 mila euro, mentre il costo medio degli autisti di APS era di 47 mila euro annuale. Quindi, lei si pensi 580 autisti, 8-9 mila euro di differenza rispetto a Bus Italia all'uno, si pensi che cifre, siamo vicini ai 5 mila euro l'anno, di maggiori costi rispetto a... Questo per far capire un po' la gestione manageriale, economica, a livello privatistico di Bus Italia rispetto a quella che era la gestione di APS. Cosa succede? Che nel momento in cui APS si libera del ramo trasporti, peraltro, ripeto, cosa obbligatoria, APS comincia a produrre utili. Comincia a produrre utili e questi utili cominciano a coprire le perdite precedenti. Cosa vuol dire? Che il bilancio del comune dal 2017 avrà delle poste a copertura delle perdite delle partecipate inferiori, perché già la partecipata APS ha cominciato a coprirle. E quindi si liberano risorse che poi il comune può destinare a servizi sociali, tra cui, peraltro, l'implementazione del trasporto. Perché Bus Italia, se viene richiesto al comune un aumento del trasporto, un'implementazione di nuove linee, è chiaro che deve chiedere al comune le risorse per poter effettuare queste implementazioni. E quindi vuol dire che il comune deve destinare delle risorse, che se le ha le destina, se non le ha non le può destinare. E con la copertura delle perdite, che APS farà già da quest'anno, il comune avrà liberato le risorse che poi deciderà il nuovo sindaco come destinare, io mi auguro anche alla gestione del trasporto, ma ci sono palestre da sistemare, scuole, manutenzione verde pubblico, tante cose. Quindi c'è stato un beneficio effettivo in termini contabili? Assolutamente, guarda, io le do un dato. Noi abbiamo presentato il piano finanziario triennale al comune, 2016-2019, i dati sono questi. Surplus finanziario, cioè le entrate superano le uscite di 4 milioni e 8 per il 2017, di 5 milioni e 2 per il 2018 e di 5 milioni e 6 per il 2019. Questo perché? Grazie naturalmente ai parcheggi che sono una risorsa molto importante di APS, perché ricordiamo che adesso APS è un'azienda unica che ricomprende anche la ex APS opere e servizie che eccitiva i parcheggi e APS finanziaria, la cassaforte del comune. Adesso c'è un'azienda unica che fa un bilancio unico e quindi questo bilancio gode anche sia delle locazioni, degli asset, deposito di via Rismondo, officina di via Salboro, deposito d'autobus di via Rismondo, officina di via Salboro e tutto il sistema tramviario, locazioni a bus Italia Veneto, cioè all'ente gestore, che fruttano oggi come oggi oltre 3 milioni di euro l'anno. E più i parcheggi, poi ci sono tutti i costi degli ammortamenti, soprattutto costi finanziari per le rate di mutua per finire di pagare la linea 1 del tram, che ancora stiamo pagando e continuiamo a pagare ancora per diversi anni. Dopo apriamo il capitolo tram, sì. Leggo anche un messaggio che è arrivato nel frattempo, chiedo gentilmente alla regia se ce lo rimettono in onda. Sinceramente è vero, anche a me viene ad associarvi al trasporto pubblico e forse a qualcuno giova questo, danno le colpe a chi non ne ha e chi invece ne è responsabile ci sguazza dentro. Ma guardi, ci si leggono tante cose sui giornali, però io dico e continuo a dire che il trasporto pubblico a Padova ha un livello di efficienza molto elevato rispetto alle risorse che l'Italia, che lo Stato destina al trasporto pubblico. Do un dato che l'ho dato anche la volta scorsa che è lo Stato qui. In Francia, che c'è un trasporto pubblico ottimale, ci sono delle risorse però deputate al trasporto pubblico da parte dello Stato che funzionano in questo modo. Una piccola percentuale dello stipendio annuale di ogni dipendente, di ogni lavoratore francese viene destinata al trasporto pubblico. In Italia questo non succede. Un abbonamento mensile per il trasporto pubblico in Francia costa anche 190 euro al mese. Qui ricordiamo che con 320-330 euro l'anno uno studente utilizza gli autobus tutto l'anno. Un dipendente non arriva ai 400 euro l'anno per utilizzare il trasporto pubblico. Quindi il trasporto pubblico ha un prezzo politico, le risorse in Italia sono quelle che sono, ma rispetto al costo del trasporto per il cittadino, soprattutto anche in termini di abbonamento, e rispetto alle risorse che lo Stato destina al trasporto pubblico, dove non vengono toccate le tasse di cittadini in via diretta, ma solo con le imposte generali, il trasporto pubblico a Padova ha un livello di efficienza molto elevato. E quindi quando si critica il trasporto bisogna pensare che è pur vero che ogni cittadino vorrebbe che l'autobus passasse sotto casa sua. E questo ovviamente non è possibile. Però dico che il trasporto ha un livello di efficienza alto a Padova e si può senz'altro migliorare e proprio le manovre aziendali che abbiamo fatto avevano anche questo scopo, cioè quello di liberare le risorse al Comune per poter destinare queste risorse anche a un'implementazione del trasporto. Infatti una delle problematiche riscontrate è la frequenza di questi mezzi, l'attesa tanto lunga che passi un autobus in certe fasce rarie è abbastanza... Io però devo dire una cosa... E dopo la zona industriale ci hanno detto che non è servita. Io però devo dire una cosa, io rappresento APS, oggi APS non gestisce più il trasporto pubblico, noi siamo soci al 45% dell'ente gestore e naturalmente abbiamo un peso all'interno dell'assemblea dei soci, però la gestione è deputata a Bus Italia Veneto, l'ingegner Franco Viola, amministratore legato, una persona molto in gamba con cui c'è un'ottima collaborazione e naturalmente è il Comune che è deputato a regolare il trasporto. Infatti un messaggio è arrivato proprio in questo senso, appena torna il sindaco poi ci mette le mani. Speriamo che... Ci mette le mani. Che ritorni un sindaco che abbia potere decisionale e anche faccia le cose perché adesso... Sono lasciati in una fase un po' così. Una fase peraltro comprensibile. Ecco, lei c'è nato il discorso parcheggi e qui mi viene in mente un'altra mail che era arrivata, tanto stanno arrivando tantissimi messaggi, li leggo perché sennò i telespettatori si lamentano, ma se siete in attivo con i bilanci perché non investite su una miglioria dei servizi? Ma guardi, se noi siamo in attivo sui bilanci è per coprire 18 milioni di euro di perdite. Come dicevo prima, copriamo le perdite e destiniamo il Comune libera risorse, è il Comune che deve migliorare i servizi perché i servizi oggi di APS sono forno crematorio, parcheggi, car sharing e fotovoltaico, nonché le locazioni a Bus Italia. Noi credo che il forno crematorio, se vuole spendo due parole, anche se l'argomento magari non è simpaticissimo, io ho qui dei dati, il forno crematorio è dal 2012 che esiste a Padova, è stato fatto da APS, sono due forni, è in progetto e in costruzione il terzo forno. Il forno crematorio ha proceduto alla cremazione di oltre 20.000 salme da quando è iniziato di cui 5.188 sono state le cremazioni nel 2016. C'è un'esigenza molto sentita sia in città che anche fuori città ma anche fuori provincia di utilizzo di questo forno crematorio perché anche i costi sono estremamente bassi perché una tariffa per i parenti dei defunti, dei residenti è di 240 euro, mentre per i non residenti è di 468 euro. Cifre comunque basse e che rispetto alla ordinaria tumulazione della salma in terra sono cifre molto più basse. Poi c'è questa esigenza sentita di cremare i corpi che una volta non c'era e quindi questo servizio APS lo dà a cifre modeste e che servono per coprire i costi di investimento di questi forni. Peraltro c'è anche una sala del commiato fatta dietro al cimitero che è molto bella, ha avuto dei costi importanti ma è molto bella, molto accogliente per l'ultimo, l'estremo saluto alla salma. Quindi rispetto a prima c'è stato un investimento è stato fatto. Poi ricordo anche che APS peraltro ha un servizio di car sharing che per fortuna nel 2016 ha cominciato il cittadino a fruirne perché i car sharing praticamente sono 18 auto messi a disposizione di APS a un prezzo molto conveniente, sono 5 euro all'ora di tariffa, un'iscrizione di 24 euro annuale e 5 euro all'ora di tariffa peraltro che copre i primi 50 km. Ecco, come funziona? Dedichiamoci, abbiamo visto il capitolo, il forno crematorio l'abbiamo chiuso in modo che non si ingegneri in confusione magari chi ci ascolta. Car sharing, un attimo che leggiamo anche quest'altro messaggio, ma nonostante il fatto che lo sappiamo tutti che il tram costruito non solo ha creato 3 mila problemi, si rompe spesso costa un'enormità, non è modificabile il tragitto eppure c'è chi vuole farne un altro e farlo passare in mezzo a campi per aumentarne la edificabilità. Questione tram, dopo vediamo di rispondere anche a questa questione. Stavo parlando del car sharing. Car sharing, come funziona? Perché forse non è compreso ben altro. Il car sharing, ci sono dei siti in città dove ci sono queste auto che sono di APS, sono 18 auto di cui 5 è totalmente elettriche, altre B-Fuel, quindi metano, benzina e altre solo a gasolio, che sono a disposizione dei cittadini. Il servizio è a disposizione 24 ore su 24-7 giorni a settimana. Il cittadino si iscrive, paga 24 euro di quota di iscrizione e poi ha una tariffa orale di 5 euro l'ora. Questa tariffa orale ricomprende i primi 50 chilometri che a livello di costo ulteriore non c'è, sono gratuiti. Inoltre, oltre i primi 50 chilometri c'è una tariffa chilometrica di 50 centesimi al chilometro. Questo a cosa serve? serve al cittadino che non ha un'auto o che non vuole usare l'auto per recarsi in uno di questi parcheggi, prendere l'auto, spostarsi, dover andare in ospedale piuttosto che accompagnare una personalizzazione, riporta l'auto in questo sito e paga il servizio conformemente l'utilizzo all'utilizzo che ne fa. Quindi è una specie di retta carri. Sì, è un utilizzo di auto. Ci sono paesi in Germania, in Germania molti nelle città non hanno più l'auto, utilizzano questo car chari. Noi speriamo che prenda sempre più piede. Io sono qui per invitare i cittadini ad informarsi su questo servizio perché è un servizio che per ora naturalmente è costoso per APS perché le iscrizioni non arrivano a 350. Ecco, ma forse perché non è tanto conosciuto e quindi ha bisogno di… le persone forse non sanno dove si trovano questi posteggi, quindi c'è maggiore… Guardi, ce n'è uno vicino al Teatro Verdi per esempio. Sì, quello infatti… Ci sono, ecco, per esempio. Ma basta andare sul sito, ci hanno tutti gli stalli. Un'altra cosa chiedevo, ma come mai il car sharing non si è puntato sull'elettrico come per esempio, lei ha fatto un esempio esterno, tipo all'estero sono quasi tutte elettriche le macchine del car sharing. Allora, abbiamo le auto bifuel e le auto elettriche. L'auto elettrica, anche un'utilitaria è molto più costosa, oggi come oggi. Quindi si tratta anche di far quadrare un po' i conti. Peraltro il ramo car sharing è ovviamente in perdita perché i 328 utenti con una percorrenza complessiva nel 2016 di 100 mila chilometri, complessiva di tutti gli utenti, non riesce naturalmente a coprire i costi del servizio. Qual è il problema? L'avrete calcolato dov'è? Nel prezzo troppo elevato? Il problema è che il cittadino italiano vuole la sua auto, vuole avere appunto la sua auto perché l'auto è considerata come un bene personalissimo e quindi è difficile far cambiare la mentalità al cittadino. Probabilmente con le nuove generazioni che nascono, con i giovani, saranno più portati all'utilizzo di questi servizi. Ma forse c'è anche uno, magari uno lo usa per andare a USA, per andare al lavoro, è tutto legato. Anche Milano, chi abita a Milano città e lavora, se non lavora nelle grandi periferie lontane, il mezzo di trasporto pubblico è fondamentale. Tutti si muovono sui mezzi pubblici, di sopra, di sotto, eccetera. E ci sono anche auto elettriche tra l'altro, ma è diverso lì perché lì tu ti puoi veramente muovere senza toccare la macchina. Parliamo di un'estensione di città, Milano, Bologna, Firenze, che è molto più estesa di Padova. Padova poi, guardi, io le faccio un esempio, io ho lo studio vicino al Teatro Verdi. Se parcheggio vicino all'hotel Milano, io in otto minuti sono a piedi in ufficio. Il centro di Padova è estremamente serenamente passeggiabile e raggiungibile anche se l'auto rimane all'esterno delle mura, se una persona è abbastanza in forma e se non è un disabile o un anziano. Una cosa importante del car sharing è che l'auto elettrica può parcheggiare sui posteggi blu gratuitamente, può entrare nelle zone ZTL gratuitamente. ZTL, quindi è una gestione del traffico del veicolo molto più semplice dell'auto propria. Speriamo che il cittadino cominci a interessarsi di più e a utilizzarle perché noi possiamo anche implementare la flotta. Assolutamente. Prima di andare in pubblicità, leggiamo gli ultimi due messaggi che non ho letto, quindi magari se la regia ce li rimetti in onda e così dopo vediamo. Allora, vi volevo segnalare la linea M dalle Terme a Padova che ha vecchi bus addirittura al limite della sicurezza, mentre in città si vede qualcosa di nuovo. Perché? Una domanda, vediamo l'altro messaggio ancora che era arrivato, così dopo rispondiamo, anche se non è di competenza ribadiamo il discorso degli autobus, poi vediamo di rispondere. Magari della regia ci mettono in onda anche il messaggio precedente a questo, altrimenti rispondiamo dopo la pubblicità e li vediamo insieme dopo. Un'altra cosa, il cambiamento degli autobus, l'adeguamento, vi vede in qualche modo poter condizionare le cose o è sempre una questione anche di budget? Ma è una questione ovviamente anche di budget perché noi dobbiamo appunto cominciare a coprire queste perdite. Infatti forse questa consapevolezza non è ben radicata nelle persone. No, perché anche APS ha accumulato debiti verso il comune per oltre 8 milioni di euro, quindi noi contiamo in tre anni di restituirli adesso. Che devono essere restituiti, non è una cosa... pubblicità a pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.